eccoci qui dopo il segmento sul tavolo arriviamo alle conclusioni su questo gioco è assolutamente un classico è un'esperienza secondo me è uno di quei giochi che in una collezione oggettivamente non dovrebbe mancare soprattutto se siete appassionati di solitari anche per capire per provare questo meccanismo veramente originale veramente unico di gestione del solitario un solitario in cui il bot gestisce soltanto le conseguenze delle nostre stesse azioni insomma sì ci sono due bot in realtà perché uno è semplicemente quello di carta che un po porta avanti che cos'è le scelte dell'altro bot che saremo stati noi stessi è sempre un po difficile descrivere questo meccanismo però una volta capito avete compreso perfettamente che cosa sto parlando insomma è lo ripeto veramente questo senso l'ho anche scritto nelle guerre di carta 1.0 il gioco di rihanna nei miei libri è veramente questo gioco è la tragedia greca del combattere contro noi stessi è terribile da questo punto di vista rende veramente quanto questo conflitto è stato terribile per la cultura per l'identità stessa della grecia classica perché dopo di questo va tutto quanto in declino perfino sparta che la vince questa guerra i persiani più o meno si riprendono tutto anche come era di influenza e poi parte alessandro e quindi parte un'altra storia però la grecia classica per molti è anche abbastanza anche secondo me finisce qui finisce nella guerra del peloponneso tanto per farvi capire una delle conseguenze della guerra del peloponneso visti i cambiamenti politici e quant'altro sarà la morte di socrate quindi per dire capite bene di che cosa stiamo stiamo parlando questo conflitto in questo gioco vi permette di viverlo in maniera veramente particolare perché la vivrete come alciviede che andava dove gli pareva oppure ducco dove veniva esiliato oppure come tucidide che vedeva il suo mondo sgregolarsi quindi sarete di fronte di fronte ad una scelta lo vedete o come una razza di incredibili opportunità per grandi spedizioni da tutte le parti all'alcibiade ora da una parte ora da un'altra oppure facendo di rodere all'interno e tucidide che vide il suo mondo sgregolarsi di fronte ai suoi occhi e in questo caso per vostra stessa colpa perché vedrete sarete per esempio comanderete Atene e poi dopo farete tutto su Sparta poi sarete da Sparta Sparta sarà un disastro però per colpa di quello che voi avete fatto come Atene veramente però dovete fare attenzione perché rischiate poi dopo di tornare di nuovo ad Atene quindi veramente eccezionale veramente è un'esperienza veramente unica io continuo a non descrivere bene quanto questa esperienza sia profonda a livello emotivo a livello emotivo altra cosa appunto vi dà questo senso di questa erosione costante progressiva di questa che poi è dato definito uno dei modelli della guerra di attrito no quello che noi consideriamo la guerra di attrito quindi anche qui veramente veramente una guerra che ancora adesso va studiata e va e va compresa una guerra che appunto questo gioco riproduce con delle meccaniche che all'inizio possono intimidire però poi dopo diventano molto basilari e soprattutto grazie anche al regolamento riscritto da Chad Jensen che veramente ve le rende molto immediate le meccaniche chiare ed essenziali per delle tattiche che teoricamente sono chiari da seguire però quindi da mettere in atto però e da gestire è difficile capire come implementarle al meglio quali tattiche adottare al meglio per ottenere quel risultato definitivo che vi permetterà di portare l'avversario e la resa per evitare la possibilità di ogni gerato passaggio dall'altra parte quindi una originalità estrema del gioco e anche una buona precisione della rappresentazione degli eventi o più che altro se non magari dei singoli eventi delle dinamiche di base delle dinamiche di fondo del conflitto comprese anche quelle economiche politiche che ci sono e da questo punto di vista è ottimo per capirne saperne di più di questa guerra anche grazie al playbook e al materiale storico che ci ha messo Herman e anche sull'arte della guerra del mondo antico perché anche qui avete quelle spedizioni militari tipiche del mondo antico che partono con trumbe e tamburi fanno danni da tutte le parti però poi tornano precipitosamente a casa quindi non si va mai a acquagliare a ottenere un risultato definitivo sono continuamente alternanti di qua e di là e poi su bello si può si deve tornare a casa oppure addirittura si passa dall'altra parte tutto questo rende benissimo il senso della guerra che su avanti ci basta ancora una piccola vittoria ce l'abbiamo fatta che sarà una cosa continua e per anni e anni e anni andrà avanti poi ci saranno anche le fasi di armistizio cioè c'è veramente di tutto il materiale è veramente ottimo sottolineo evidenzio il playbook che è arricchito da un mini saggio di Herman sulla guerra del peloponneso frutto dei suoi studi approfonditi e una ricostruzione bellissima tramite i turni le mosse del gioco anno per anno di quello che è successo durante la guerra quindi proprio una ricostruzione storica fatta vedere come dimostrazione come il gioco può riprodurre effettivamente la storia anche quello se voi seguite quella sequenza di gioco vedrete davanti a voi tutta la guerra del peloponneso di panarsi davanti ai vostri occhi veramente una macchina del tempo è eccezionale assolutamente eccezionale poi ci sono le sarie snoze che come sempre sono immancabili il playbook contiene anche vari scenari su vari momenti della guerra uno scenario breve più altri e poi anche scenari aggiuntivi uno scenario di due giocatori anche su pezzi di dopo la guerra caduzza di Atene poi la caduzza di Sparta veramente molto molto belli quello da due giocatori lo devo un attimino lo devo ancora provare però deve essere sicuramente interessante la componentistica l'abbiamo detto di questa seconda edizione che ha anche migliorato alcuni aspetti bene anche nelle matrici strategiche quant'altro la componentistica è di ottima qualità qua veramente non c'è assolutamente niente da dire i cambiamenti che sono stati portati in questa seconda edizione sono stati tutti per il meglio e ben concepiti quindi questa è una piccola ristampa proprio una revisione e assolutamente merita però è comunque una come tutti i giochi può avere delle criticità degli aspetti problematici tanto per cominciare la lunghezza del gioco non è da poco anche sugli scenari parziali se c'è una campagna scordatevelo di tenerlo su per una serata via dovrete tenerlo su perché non ce la fate chiuderlo in una sessione di gioco potete tenere sul tavolo oppure utilizzare mi pare ci sia il modulo Vassar che non ha le matrici strategiche per richiesta da GMT e capisco bene perché però se voi ve le tenete vicino avete il modulo Vassar la partita sta lì quindi a questo punto potete fare una campagna anche senza intavolarlo anche se ovviamente sul tavolo diciamo sempre la cosa fisica dai è assolutamente bellissima però ecco appunto questa lunghezza c'è un po' per un solitario un po' si sente le meccaniche invece la parte delle meccaniche sono efficaci però restano sempre un pochino sulla stratza la gestione delle battaglie soprattutto le gestioni di battaglia tiro contrapposto con un paio di modificatori bello, sempatico, semplice però magari vi manca un pochino della gestione è giusto che non ci sia una micro gestione dell'aspetto militare perché voi siete più dei leader politici piuttosto che dei comandanti sul campo e quindi magari appunto la rotta delle spedizioni tra gestione le spedizioni lo si sceglie in automatico quindi insomma ci sono la battaglia è molto rapida quindi venite un po' tenuti lontano dal livello più tattico però alcuni potrebbe non piacere questa cosa e qui si sente molto e appunto con questa estrazione di nuovo diventa un po' difficile nonostante il bellissimo pezzo del playbook però lì è un esempio guidato anzi è una partita guidata diciamo non si sente tantissimo la riproduzione dei singoli eventi molto e molto bene la riproduzione delle dinamiche di base quello assolutamente sì bella questa cosa anche delle spedizioni tornando alle dinamiche le spedizioni che partono e poi si fermano però accumulate risorse cercate di evitare che l'avversario faccia lo stesso così facendo avete interi turni in cui passerete soltanto a saccheggiare la costa del Peloponneso da una parte lattica dall'altra sì per carità è successo perché anche questa è stata la guerra del Peloponneso in tre anni quindi non ci sono state grandi battaglie però questo crea un'azione un po' a strappi e alcuni potrebbero anche questo non piacere cioè ci sono tanto accumulo, 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 tanti toni, non succede molto e boom un'unica cosa che sono un paio di tiri di dato di nuovo la cosa di Herman non è che se tutto dipende da un tiro di dato il gioco è sbagliato siete voi che avete sbagliato la tattica e la gestione perché il tiro di dato deve essere guidato perché dovete agire prima sui modificatori e fare in modo che le conseguenze che il tiro di dato sia pesato ma dalla vostra parte e lì sta la strategia perché si dice di tutto con un tiro di dato e basta vabbè questo è un altro discorso che ha fatto Herman su siti ideali poi quindi scordatevi roba di mosse geniali, manovre incredibili tipo Siracusa, sì io ce l'ho scusso Siracusa questo è un gioco in cui conta, si premia anzi la paziente erosione della forza nemica dovete erodere il nemico, togliere gli entrati, impedirgli di fare grandi eserciti con i saccheggi, lui non ha i soldi per costruire gli eserciti quindi non può schierare grosse unità in campo e quindi è una guerra di erosione da questo punto di vista domina l'ambientazione storica per quello che riguarda di nuovo le meccaniche ci sono, la cosa ci sono tante, non tanto eccezioni tante regole, regolette particolari lo spazio, una certa area che è una certa regola speciale la cosa degli ostaggi e in questo turno succede questo in questo turno succede quest'altro tante cosette da tenere sempre a mente non interrompono mai il funzione del gioco però ci sono, ve le dovete ricordare o comunque sia, sempre dare un occhio ai vari player aid mentre invece a livello più alto questa dinamica pirandelliana di voi che è passata da una parte all'altra è veramente affascinante però può disorientare, può frustrare e perfino a un certo punto può perfino annoiarvi perché davvero alla fine però attenzione sì c'è il bot dall'altra parte e tutto ma alla fine capite e questo lo dice perfino Herman nel suo articolo sui treai Sam I am mi pare su un paio di sette treai fa in realtà state comunque continuando a giocare contro voi stessi anche in questo caso il bot gestisce le conseguenze della pianificazione a lungo termine che avete fatto nel turno in cui eravate da quella parte ad alcuni può annullare ecco questo è un classico gioco che basandosi aspetti molto soggettivi non lineari beh veramente è veramente un po' difficile capire se possa piacere o no alcuni può piacere molto altri possono non entrare in quest'ottica legittimamente però ecco quindi questo è un gioco veramente particolare cosa incredibile che è con noi da metà degli anni 80 vabbè comunque se vi piace però il modo di fare solitario del meglio della propria capacità paradossalmente questo gioco che di bot ne ha due in cui giocate sempre con un bot è l'ideale perché si sente comunque il giocare al meglio delle proprie capacità è un meglio delle proprie capacità assistito e potenziato è incredibile paradossale ma è così e lo adorerete io e me che piace tantissimo giocare al meglio delle mie capacità questo gioco quindi scegliere io che cosa fare questo gioco è perfetto perché comunque sto sempre a giocare anche se a parte invertite quindi in realtà il bot mi assiste questa cosa che io passo da una parte all'altra però è una cosa che è assolutamente assolutamente è importante da tenere a mente poi i bot impongono alcune parità come il calcolo degli spazi minimi per la spedizione insomma c'è un pochino di conteggi da fare e infine veramente l'ultima cosa secondo alcuni questo fare rifare sempre le stesse cose in un contesto asimmetrico e nello strategico ma simmetrico ma simmetrico piuttosto simmetrico a livello tattico può nuocere la rigiocabilità ci sono tanti scenari però insomma le dinamiche sono sempre le stesse fate macello per erodere le risorse e l'altro così che lui non possa fare grandi spedizioni ai vostri danni e poi ci sono le poche ma importanti e fondamentali battaglie anche se poi ci sono alcune aree specifiche della mappa alcuni punti che bisogna ottenere questo ve lo spiega molto bene in questo gioco come tutti i giochi da punto a punto però ecco ci sono queste cose che dovete tenere a mente conclusioni assolute ripeto l'ho detto 50 volte ma ripeto di nuovo è un grande classico è una vera esperienza da provare è veramente un gioco che secondo me deve esserci nella vostra collezione per capire questo approccio che veramente c'è stato soltanto qua e quindi questo grande esperimento che secondo me per molti versi è riuscito però l'esperimento è stato soltanto qua a un certo punto perché per esempio tanti anni dopo Herman farà un gioco come Versailles 1919 e ne abbiamo parlato in cui nel solitario questa dinamica viene rovesciata qui avete la dinamica che dovete vincere quanto più possibile quanto più prima possibile per chiudere la partita in Versailles 1919 è non devi vincere troppo se vuoi fare punti a fine partita perché sì anche lì c'è questa cosa che cambiate da una potenza all'altra però fate fate punti soltanto quando siete alla prima potenza e quindi non potete fare troppi strappi perché se per esempio in quel caso come Inghilterra andate avanti troppo in avanti poi dopo diventerete l'ultima potenza la Francia che sarà troppo indietro prima di recuperare l'Inghilterra ce ne vuole e perdete punti lì la rovesciata questa cosa ma è molto interessante perché in Versailles 1200 qui in Peloponnesian War avete l'ottica di una gestione prettamente militare dell'andamento di un conflitto mentre questo è in corso di svolgimento devo vincere devo vincere il prima possibile soprattutto perché è una guerra fratricida contro nell'opposto in Versailles in 1919 avete la gestione politica delle conseguenze di un conflitto dopo che questo conflitto è stato portato a conclusione quindi lo dovete chiudere ma dovete chiudere dal punto di vista politico e lì nessuno deve perdere troppo lì l'ottica è rovesciata è interessante questa cosa vedere questi due giochi in combinato ha delle prospettive interessanti e poi anche interessante perché qui vediamo i primi passi di concetti come intercettazioni l'uso del point to point i punti forza i tiri sui leader fatti così eccetera su tutta roba che poi dopo ci ritroveremo i classici card driven di Mark Herman sembra questo sembra per certi versi lo vedo mi fa pensare ad un We the people o ad un non so for the people sulla guerra civile americana però senza le carte quindi veramente particolare è una grande sperimentazione e questi sono i primi passi di questi meccanici che ritroviamo dopo ma questa era la Victory Games facendo queste cose bellissime bellissime insomma in conclusione veramente qui abbiamo due bot poi questa cosa incredibile che un gioco con due bot alla fine rimane il gioco al meglio delle proprie capacità e il bot funziona solo perché in realtà siete voi che ne avete fatto prima le premesse strategiche di quel bot il gioco vi assiste soltanto durante le vostre pause in attesa che torniate a ricoprire il vostro comando da quella parte siete Atene il bot gestisce Sparta contro di voi passate a Sparta bene il bot sta tenendo Atene in attesa che voi possiate ritornare ad Atene quindi veramente questa meccanica e poi viceversa questa meccanica è veramente affascinante veramente fondamentale surreale straiante e geniale al tempo stesso quindi questo veramente è particolare e tutto questo ci fa capire il messaggio ultimo il nocciolo della questione non conflitto non sono tanto le manovre le risorse i posizionamenti in sé ma le conseguenze che tutte queste cose hanno sulla volontà di combattere sul suo mantenimento perché qui il gioco finisce quando una delle due parti capisce che basta non ho più volontà di combattere quindi la manovra non è fatta in sé è fatta per andare a minare la volontà di combattere dell'avversario anche quando quell'avversario potreste diventare voi stesso guardate veramente c'è da perderci la testa quindi la volontà è sempre la vostra veramente è incredibile non capite questo è un gioco a cui sono affezionato da tanto lo giocavo veramente da ragazzo nella sua prima edizione e veramente mi affascina sempre mi colpisce sempre questo era Penoponation War questo era il blog su Penoponation War veramente un gioco straconsigliato e in una seconda edizione bellissima particolarissima un gioco che può avere le sue difficoltà le sue criticità ma veramente è assolutamente raccomandato bene finisce qui questa questa puntata di blog di questa serie di puntate di blog su Penoponation War io vi saluto vi auguro un buon divertimento ci vediamo alla prossima occasione e come sempre ricordatevi niente paura sono solo War Games ciao ciao